Un vero e proprio ufficio informazioni aperto ai tanti cittadini e turisti nel cuore del capoluogo siciliano. Un nuovo spazio in un luogo simbolico, quello che fu l'oratorio di San Giovanni dei Gerosolomitani di Via Macqueda. Bombardato e distrutto durante il secondo conflitto mondiale insieme a Palazzo Castelluzzo e alla Chiesa di Santa Croce, dal 1983 è stato oggetto di un complesso iter di riqualificazione che oggi prende il nome di Areacquaroni. Penso che sia anche questo un piccolo esempio di come si può recuperare qualcosa che poteva diventare invece il segno di quel degrado di una città che oggi, grazie a Dio, riesce a porre anche segni di trasfigurazione e di rinascita. Del vecchio oratorio resta solo l'antico portale, ma dopo una serie di vicissitudini burocratiche, che dopo oltre 30 anni riapre al pubblico, diventando un infopoint della Diocesi di Palermo, aperto ogni giorno dalle 9 alle 18 e che vedrà la collaborazione dei ragazzi del servizio civile. Oltre a fornire informazioni sulle attività culturali della città, l'infopoint potrà essere sede di dibattiti, incontri e mostre, come quella che ha inaugurato la struttura, ovvero un assaggio di Rosalia Eriss in peste patrona, attualmente allestito a Palazzo Reale. Ci saranno qui addirittura giovani del servizio civile, questo sarà anche un'altra bella opportunità per dare spazio alle nuove generazioni, che accompagneranno, si prenderanno cura dei turisti che verranno a Palermo per godere di questa città e della sua ricchezza. Un modo ulteriore che la nostra Diocesi avrà per comunicare con la città, attraverso poi quello che è lo strumento, soprattutto dell'arte, l'immagine, ma alla fine penso che il valore più essenziale sia quello di condividere, cioè quello che la comunità cristiana vive lo condivide con la città. Grazie a tutti.